Sportivi e tifosi, nuovo appuntamento per la quinta giornata di campionato di serie D. Giurone C si scontreranno infatti Montecchio Maggiore contro Campo d'Arsego. Appuntamento domenica 2 ottobre presso lo stadio comunale di Montecchio Maggiore. Ringraziamo i partner commerciali per questa stagione sportiva 2022-2023 e andiamo a vedere insieme le immagini del match. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.